La pioggia, lenta ma inesorabile, ha accompagnato i circa 13.000 studenti arrivati da tutta Italia a Napoli per la Piazza Incantata. Piazza Prebiscito ha fatto dunque da cornice ad un concerto di canto corale senza precedenti. I circa 13.000 coristi, 361 formazioni provenienti da 63 province di 17 regioni italiane, sono state protagoniste entusiaste nonostante il maltempo di questo singolare Massive Flash Mob, ideato per diffondere la conoscenza e la passione per la musica tra i giovani. I ragazzi che cantano e suonano insieme in una delle più belle piazze del mondo, affinché la musica superi ogni confine e possa portare pace, amore, solidarietà e che le differenze nel mondo rappresentano una ricchezza. Insomma Napoli città della pace attraverso i ragazzi, attraverso la cultura e attraverso quindi la musica. Le opere di Verdi e Mozart, ma anche storiche canzoni dei Beatles e della tradizione napoletana come io ti vorrei avassare. Grazie a tutti.